e ora procediamo con lo scherzo della pistola d'acqua pisciata, Daniele tu pensavi che è l'acqua, infatti c'aveva un sapore che era un po' strano aspetta dai che... oh quanto è pieno vieni la bocca chiusa che è meglio vediamo adesso se funziona non si vede però va dai dai andiamo andiamo esci 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 hai una buona mira? no, dipende perchè se ce n'hai la buona mira non lo so, dipende dall'altra cosa devo lanci eh lo stai non mi devi vedere voglio reggere il moccolo ma che cosa succederà mai che si czerzi occhiato? a lui devi reggere il moccolo si è meglio, così dai adesso senta, devi spegnerle il fuoco spegni ma sto lontana così che vincere ecco, no, 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 vincere aspetta vai, vai, vai dai, dai no, 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 no a starla dai, spara su tutti vai che è tanta eh, sono due litri è andata a mano, che la faccia io? che buzza che ha? ascolta, forse è meglio forse è meglio che non distribuisci in giro no, sai, aspetta no, 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 no lascia, 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 se vuoi spruzzare, se vuoi spruzzare insomma eh, se vuoi spruzzare, no no no, no c'è uno che ha detto no ha detto no e ora mettiamo la pistolina d'acqua amore sei e un quarto senti quel lato la pistola non devo dire la mano sì, tanto anche se ma no Grazie a tutti.